Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Credo che il riferimento fosse al raduno di Ponti da Settembre in cui Salvini ha detto che lì faremo un bilancio dell'azione di governo e capiremo cosa fare da grandi. E così è stata una stoccata? In realtà mi pare che poi abbiano chiesto a Draghi a chi si riferisse e lui ha detto che non mi riferivo a nessuno in particolare. Detto questo, questa domanda che lei mi fa la deve porre ai 5 Stelle perché noi giovedì siamo a votare 15 miliardi del decreto aiuti per famiglie e imprese. Loro cambiano idea un giorno sì e un giorno no. Come ho detto prima, la Lega farà la Lega, cioè tutti i provvedimenti che danno risposte agli italiani e che quindi insistono sul lavoro, sui salari, sulla pace fiscale, sul caro bollette. Noi li voteremo, anzi il nostro leader dice che già da ora è necessario uno scostamento di 50 miliardi di euro. Se lo ricorda Salvini, a inizio del problema energetico, ancora prima della pandemia, iniziò a parlare della necessità di uno scostamento di 100 miliardi e tutti facevano i sorrisini. Poi lo sa, ne abbiamo spesi di più perché a botte di decreti ne abbiamo spesi di più. Se oggi il leader della Lega dice 50 miliardi, non è che si inventa un numero perché ci sono delle riflessioni dietro su questa necessità. Non si può andare avanti a colpi di bonus, bisogna fare una cosa programmatica importante perché in autunno ci troveremo a fronteggiare dei problemi reali. Se il governo darà queste risposte, la Lega ci sarà, come c'è giovedì sul decreto aiuti. Quindi questa domanda non deve farla a me, la deve fare ai 5 Stelle e chiedere al PD se ha ancora intenzione di impegnare il Parlamento sulle dimensioni. Aspetta, aspetta, te la faccio fare subito, fammi chiedere una cosa perché Laura Ravetto è il dono della chiarezza. No, però allora ne abbiamo due i giornalisti che vi fanno le domande. No, no, posso, ve le faccio una domanda io. Ah, se fosse solo lei. No, le faccio un'altra domanda. Bene. Però ci sono molti mal di pancia anche nella Lega, anche la Lega, diciamo, morde il freno perché ci sono delle cose che non gli vanno bene nell'azione di governo e nei rapporti complessivi in questa maggioranza. Ma ripeto, a noi va bene quando fa le cose per cui è stato messo lì, non va bene quando va a insistere su 40 mila lavoratori che sono i taxisti con una norma. Adesso li vediamo i taxisti, adesso li vediamo. Che è una norma non necessaria, non richiesta da nessuno, tanto meno da l'Europa. Non ho letto nel pensiero. Allora posso fare vedere i taxisti prima, scusami. Sì, sì, ma siccome li ho visti finora. Assisti, intanto ci sono...